Ehi, guarda chi si vede. Sono contenta di incontrarti, Maria. Era tanto tempo che volevo parlarti, ma che mi fai sentire di te in giro? Che quando eri al paese eri tanto una brava figliola, eri il modello delle giovani della tua età. Se fosse vivo tuo padre... Pietra, ma perché mi parlate così? Che cosa ho fatto per meritare i vostri rimproveri? E poi perché mio padre dovrebbe essere scontento di me? Ah, non ti offendere per le mie parole, Maria. Io sono vecchia, parlo per il tuo bene, e poi ero tanta amica del povero Andrea che a vederti fare una brutta fine a me dispiace, come se tu fossi mia figlia. Soprattutto quando penso a tutte le speranze che lui riponeva in te e a tutti i sacrifici che ha fatto per lasciarti un nome intemerato. Ma che cosa dite, Pietra? Io sono un'onesta lavoratrice, non ho mai fatto del male a nessuno. Anzi, scusate se ve lo dico, ho sempre cercato di fare quel po' di bene che ho potuto. In che cosa mio padre dovrebbe arrossire di me? Insieme alle mie compagne e ai miei compagni cerco di migliorarmi, di istruirmi, di portare rimedio ai mali che affliggono me, voi e tutti. In che cosa ho meritato i vostri rimproveri dunque? E io qui ti volevo. Io lo so che tu sei una brava figliola, un'onesta lavoratrice che aiuti il prossimo, lo sanno tutti in paese. Però sei stata più volte carcerata e dicono che le guardie ti tengono d'occhio e che solamente a farsi vedere in piazza con te c'è da passare dei guai. Chissà che io stessa adesso non abbia a compromettermi. Ascolta i consigli di questa vecchia. Lascia spoliticare i signori che non hanno niente da fare. Tu pensa a lavorare e a fare bene. Così vivrai tranquilla in grazia di Dio. Altrimenti perderai anima e corpo. Senti a me. Lascia andare le cattive compagnie. Che tanto si sa, sono loro a sviare le povere figliole. Pietra, i miei compagni e le mie compagne sono tutte persone oneste e il pane che mettono in bocca costa loro sangue e sudore. Lasciatene dir male ai padroni che vorrebbero succhiarci fino all'ultima goccia di sangue e poi dicono che siamo delle canaglie se solamente brontoliamo e gente da galera se proviamo a sottrarci alla loro tirannia. Sì, è vero. Le mie compagne e i miei compagni e Dio siamo stati in carcere. Ma vi siamo stati per la causa giusta. Ci torneremo. Probabilmente ci succederà anche di peggio. Ma sarà per il bene di tutti. Sarà per distruggere tanta ingiustizia e tanta miseria. E voi, che siete stata sfruttata tutta la vita e avete pure patito la fame, non dovreste allinearvi con i signori e con i padroni per dare addosso a noi che vogliamo solamente cambiare la condizione della povera gente. Figlia mia, io lo so che il mondo va male. E' soltanto che a volerlo accomodare è come voler raddrizzare le gambe ai cani. Peghiamolo dunque come viene e preghiamo invece il Signore che non ci faccia mai mancare la polenta. I ricchi e i poveri ci sono sempre stati. E noi che siamo nati per lavorare, dobbiamo lavorare e accontentarci di quello che il Signore ci manda. altrimenti perderemo la pace. Eppure l'onore. E torna con l'onore. I padroni prima si impossessano di tutto, vivendo alle nostre spalle nella ricchezza e nella crapula. E poi dicono di noi che per essere delle persone oneste dobbiamo accettare volentieri la nostra condizione di sottomessi e vederli ingrassare alle nostre spalle senza fiatare. Se invece ci ricordiamo che siamo uomini e donne anche noi e che chi lavora ha il diritto di mangiare, allora siamo dei farabutti. I carabinieri ci sbattono in galera e i preti per giunta ci mandano all'inferno. I veri farabutti, la gente senza onore, sono quelli che vivono di prepotenze, sono quelli che si sono impadroniti di tutto quello che sta sotto il sole e che a forza di patimenti hanno ridotto il popolo allo stato di un greggio di pecore che si lascia tranquillamente tosare e scannare. E voi vi mettete con questa gente qua per darci addosso. Se la miseria e l'ignoranza forzata e l'abito contratto in tanti secoli di schiavitù non spiegassero questo triste fatto, io direi che sono senza onore e senza dignità proprio quei poveri che fanno da puntello agli oppressori dell'umanità e non noi che mettiamo a repentaglio questo misero tozzo di pane e questo straccio di libertà che ci è concesso per arrivare al punto in cui tutti stiamo bene.